Musica Ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video in questa atmosfera natalizia manca veramente poco a Natale e oggi sono qui per fare un unboxing di un prodotto veramente molto bello cioè una cover di un prodotto di Apple in silicone in colorazione bianca Musica La cover è molto bella avevo la stessa colorazione anche sull'iPhone 7 e devo dire che come cover secondo me è la migliore perché comunque protegge soprattutto la scocca con il velluto tipo una pelle veramente molto soffice quindi spero che il video vi piaccia quindi let's go ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.